Bentornato al canale Michele Runza Channel, il canale che ti racconta o cerca di raccontarvi un'altra verità, una storia diversa da quella che comunemente conosciamo. Vi auguro un buon proseguimento con il video e vi ricordo di iscrivervi al canale e rimanere sempre aggiornati. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.